Urlare al ristorante per comunicare con il vicino di tavolo, mettere la radio o la televisione a tutto volume fanno subire a chi ci circonda inquinamento acustico. Solitamente sono i decibel eccessivi a disturbare la quiete pubblica, a dare fastidio a chi l'udito ce l'ha buono e non vorrebbe subire martellamento soprattutto nei momenti di relax. L'estate è massima espressione di inquinamento acustico, il caldo tiene la gente più fuori di casa del solito, la brezza serale aiuta a fare tardi e le orchestrine piuttosto che i soliti maleducati che urlano sotto casa non fanno dormire sonni tranquilli, spesso facendo esplodere liti condominiali, liti travicini. Tubi di scappamento di auto e moto troppo aperti e irrispettosi dell'altrui sensibilità e soprattutto fracassoni al solo scopo di mettere in evidenza tutta la loro maleducazione, il loro sadismo nel disturbare la quiete pubblica. Si misurano i decibel, si denunciano quelli di troppo ma poi tutto il più delle volte per il quieto vivere finisce a taralluce e vino. Ma oggi l'inquinamento non è solo più acustico, adesso stando ad una recentissima udienza della Cassazione, tra l'altro riportata ieri da molti giornali, esiste anche l'inquinamento olfattivo. Non sono soltanto i miasmi provocati da scarichi industriali e chiaramente non a norma che oggi viene colpita, ma oggi anche la casalinga rischia perché nel muoversi tra i fornelli di casa, nel cucinare manicaretti dall'odore forte, mette in difficoltà il vicino che non gradisce e che chiede rispetto per il suo naso. Così è accaduto che la corte di Cassazione ha considerato responsabile di danno per molestie uffattive una signora abitante al piano terreno di un palazzo perché denunciata da una conquilina del terzo piano che non sopportando più l'otore del cavolo bollito e del fritto misto di pesce aveva chiesto aiuto ai magistrati. Tanti gradi di giudizio e la singolare storia è arrivata in Cassazione. È la colpa del cibo troppo pieno di odori. La cuoca se l'è cavata perché dopo dieci anni anche il reato di molestie uffiattive è andato prescritto.